buonasera brevissima favola di esopo la iena e la volpe si dice che le iene poiché ogni anno mutano natura diventino ora maschi ora femmine una iena vide una volpe e la rimproverò di non accettarla pur volendo lei diventare sua amica quella allora rispose non irritarti con me ma con la tua natura a causa di queste infatti non so se trattarti come un amico o come un'amica la favola riguarda gli uomini ambigui arrivederci